Musica Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family Siamo in ritardo anche oggi raga Comunque dove stiamo andando? Come abbiamo già cenato ieri Noi oggi abbiamo la visita dalla ginecologa Cioè dall'ostetrica oggi, no, dalla ginecologa E rivedremo il nostro piccolino Ormai si sa, quindi non è più piccolina Voglio chiamarlo pistolino Non l'hai visto ancora? Il pistolino Perché raga ho letto Il maschio quindi c'è il pistolino Ho letto che non è, non è Però ho letto che il test del DNA fetale può sbagliare per l'1% Non ha sbagliato, eh, non ha sbagliato Però oggi vedremo E oggi si vedrà benissimo Anche perché proprio oggi noi siamo diventati un avocado Anzi lui è diventato un avocado Esatto Io non vedo l'ora raga, ci sto pensando da ieri sera E niente È tutto pronto, abbiamo anche questa qui dove dentro c'è l'ecografia E in questa ecografia sarà molto più grande dell'altra volta Sì, anche perché siamo andati, mi sembra, ormai siamo andati un mese fa Eh sì, un mese fa Perché dovevamo andare una settimana fa ma siamo stati male Come abbiamo detto Esatto E quindi abbiamo rimandato ad oggi Esatto Quindi chissà come sarà diventato grande Cosa E magari se si muove già fa qualche gesto Esatto Esatto Mi ricordo che Martino l'abbiamo visto verso muoversi tanto verso questa settimana Dopo la visita andremo a pranzo con i nostri amici La Sabri che mi repica, nonché i zii di Martino E poi dovremmo scappare perché dobbiamo andare a fare altri giri su giri su giri Va bene, siamo quasi arrivati raga Ci vediamo lì Siamo arrivati Mamoscapigliatore Eccolo il mamoscapigliatore Siamo arrivati A destinazione Fringuello Fringuello Eh sì È ancora meglio quel cappellino Ed eccoci qua Siamo appena arrivati Pronti per entrare Andiamo, andiamo Mamo Cosa stai facendo? Stai giocando? Questa È la prima volta Che lo vediamo sapendo Che possiamo parlare al maschile È vero Eh, un'altra volta lo sapevamo Pronti per passare? Grazie signore Pronti Ci siamo Lei, ma ricordate lei a baby shower Ciao Ma ricordate lei Lei sapeva tutto Tutto Ciao, come stai? Come stai? Mi fai un sorrisone? Mi fai un sorrisone? Mi fai un sorrisone? Fai un sorrisone Eh, ciao Salute Allora, io ho letto Che Ora, ora mi uccide Io già lo so Io ho letto che per l'un per cento Ma stai per l'un per cento? E per c'è No, stesso maschile qua 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 c'è scritto Sesso maschile raga Sì sì Adzeccato Però adesso ci aspetta Mi fai fare il tuo nome Eh, il nome è... Adea Ramses Secondo Non lo so Dai, non perdiamo tempo È ora di vederlo Viene a... Spero non vado tutto bene raga Ah, adesso C'è sempre l'ansia Allora, sei arrivata No, non mi fai un sorrisone Ah, eccomi qua Raga Pronta Odio che è freddo E niente, lo rivediamo Il mio quanto è cresciuto Dovrebbe essere 11 cm C'è Ah, più o meno Eccolo, 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 raga Eccolo Eccolo qua Allora Qui c'è la pestolina Oddio come si vede Eh, beh sì Guardate che si sta anche muovendo Un po' vicino Allora Sì, da un 10 10 10 Il pisellino si vede? Eh, sa che c'è un'idea C'è un po' chiuso una sopra l'alto Ma pensa Ci vuole far vedere Ha chiuso le gambe Mano proprio in faccia Sì, sì Guarda il tuo fratellino Guarda il tuo fratellino Guarda il tuo fratellino Guarda il tuo fratellino Guarda, guarda Guarda che si è messo proprio A ridotto attaccato Questa è la placenta Sì, fratellino Si è attaccato alla placenta, guarda la faccia Vedi che è fatto, la faccia di là Pistolino Ma lo vedi? Cioè che la faccia è schiacciata qua Pistolino Era stupendo, ma come si è mosso Chiamalo Ehi, ciao, fratellino Mi hai rifesito E' rifesito E' che si è girato adesso la foto Eh, lo so, infatti si riesce Si è girato di schiena Si è girato perché piangevi Guarda, guarda, è proprio in giù Si, si, si Si, guarda, la bocca che si è aperta Oh, oddio 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 Oh, sta prima bocca Oddio Guarda, il tuo fratellino Pratellino Ciao Ti sto aspettando Ti stiamo insieme Ti sto aspettando Madonna, sembra un po' un alieno così Veno? E' rabbè Si, si, sembra un alieno Veno, sembra un alieno Due settimane sembrano ancora alieni Sembrano ancora alieni Mani guarda, mi fermavo Guarda, qui so che si èMM Si Oddio Gli occhi, la bocca Guarda il tuo fratellino Guarda il tuo fratellino Raga, siamo a pranzo Come ho già detto con i zii Ma c'è anche la nostra ostetrica E' scherenti Lei non ha capito Con la maglia azzurra Chissà come mai Ciao zii, io non mangerò mai la vostra sbobba Buonissima quella Guarda Martino come se la mangia Sia Sabri quando riguarderai questo video Perché non ti fai un bel cucchiaio di quella? No, non è nada Mi sono un po' fatto pelato Un po' sì Sei un po' dispiaciuto? Però c'è sempre tempo per farlo Vedremo, vai Martino, buon appetito Martino è un po' cambiato Assomiglia picca alla Sabri Che cosa è successo? Mamo Mamo Mamo, che fai? Mamo Forse non è Mamo Ciao zia Ciao amore Guarda come si guardano Guarda Mamo Come gli tocca il piedino E Mami Sì è tanti Mamma non vuole ancora giocare con te È troppo piccolo È suo il gioco Martino È suo È suo il gioco Non è tuo Sì In acqua In acqua In acqua Dai in acqua Ho bisogno dell'epidurale Eh ma che stesse Passa Ma in acqua senti meno dolore Bella questa clip Sono più piccoli Buon appetito Ma non è stato bello Io non ci posso Voglio piattare Fino alla prima fa 3, 4, 5 settimane E dopo 1, 2, 3, 4, 5 settimane Facciamo Martino ballerino? Dai vieni a fare Martino ballerino Vai Mamo Vai Vai Mamo No C'era una volta Un piccolo naviglio Bravo Mamo Dai vai Che non poteva Che non poteva Navigare Non capisce Così anche guarda E come fa la zia Un piccolo naviglio C'era una volta Un piccolo naviglio Che non poteva Che non poteva Che non poteva Navigare Però io piace Guarda Ma tu devi fare Martino ballerino Eh sì 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 12 pittura Ha la destra più grande Della tua zia Il nostro figlio L'hanno adottato 3, 4, 5, 7 Di marzo Andiamo dal nostro figlio Ehi dacce Ce l'avevi sinta raggi Abbiamo scambiato Poco 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 domani o dopo domani ciao ragazzi ricordatevi ragazzi in descrizione la data del 21 febbraio ci vediamo ragazzi magari lo stanno vedendo a mezzo a che ora state vedendo questo video? a che ora esattamente state guardando questo video? qui sono le? in questo momento sono le 18 e 28 esatto dove sei e mezza di sera il 21 di febbraio qua ci vediamo ragazzi ci vediamo il 21 febbraio tutti vestiti da carnevale ci sono delle date a Roma e in Calabria però ci saranno anche delle sorprese ci sono anche delle sorprese le diciamo poi ragazzi ciao a tutti grazie di essere stati con noi in questa folle giornata ciao ciao a tutti